Il nuovo blocco più raro di Minecraft da ottenere, fino ad ora erano altri, ma nella 1.20 ne è stato aggiunto uno nuovo, la testa del piglin. E' il più raro da ottenere perché per ottenerlo deve morire da un creeper super caricato, che è già raro di suo. Ma se portiamo un piglin nel mondo normale, si trasforma in pigman, quindi non va bene. Dobbiamo quindi portare un creeper super caricato nel nether per poterlo ottenere.